se ci pensate poetico la squadra che ci ha detronizzato l'ultima giornata di campionato che vuole il nostro il nostro impegno però che poi ci ha chiamato perché magari conosciamo il luogo voglio pensare che sia così voglio pensare che non sia un caso ma voglio pensare che sia perché conosciamo la sardegna tre punti hanno fatti in 14 giornate c'è il siena che è nono questi qua sono troppo atti di reputazione quindi chiaramente non penso che ci prenderebbero c'è il legnano volendo evitare l' retrocessione dall'acce immaginavo in caso di istruzione pretendiamo che la squadra lotti per salvarsi non è andata a buon fine ci hanno preso per i fondelli c'è mano ma hanno fatto sedere ma hanno offerto il dessert il caffettuccio ma hanno fatto credere che fosse importante e invece mi utilizzavano per far firmare un altro si dimostra sempre di più villain il presidente della costa ma poi hanno preso il signor gioachino adamo che allenava il novara e il renate ci ha chiesto la lucchese però è lucchese che si trova in serie c girone b diciannovesimi sono a 5 punti dalla zona tranquilla però teoricamente sono anche a 10 punti dai playoff il problema è che sono poveri quindi non so se ci faranno fare il patentino due anni anche tra l'altro quindi posto fisso aumento di stipendio in caso di promozione pari al 15% riduzione pari a 35 abbiamo voluto la bicicletta adesso ci tocca pedalare la lucchese è una squadra in serie c quindi un passo in avanti rispetto all'ilva però attenzione abbiamo una squadra con il peggior attacco di tutta la serie c girone b appena 8 gol fatti di cui 5 le ha fatti praticamente la punta abbiamo però un girone dove arezzo e ravenna sono le squadre che sono state poi promosse dalla serie inferiore mentre spal e perugia sono le due squadre retrocesse dicevo la punta ha fatto 5 golla il signor nicolo romero non è magari un super attaccante se magari analizziamo le caratteristiche dinamiche perché comunque senza palla l'accelerazione la velocità l'agilità sono veramente bassi come lui però attenzione fortissimo nel gioco aereo massimo elevazione colpo di testa sicuramente importanti però non un fenomeno ma quali sono i giocatori più forti di questa squadra beh analizziamo innanzitutto il reparto abbiamo tanti difensori centrali e qui il leader indiscusso è sicuramente Andrea Tiritiello forse un giocatore che potrebbe ambire anche a una categoria superiore e ci sta anche un Tommaso Merletti che potrebbe tranquillamente avere anche un futuro importante per una squadra come la lucchese poi però i giocatori più interessanti sono a cedrocampo per quello che riguarda abbiamo Mastalli, Alessandro che ha delle mentali sicuramente importantissime e poi anche attenzione a Tumbarello Giorgio magari sì non è un giocatore che può crescere un match da 27 anni però anche lui nelle mentali mica scherza dov'è che questa squadra però non è attrezzata? Lì davanti perché Catania come riserva dell'altra punta è una cosa scandalosa non è assolutamente adatto a questa categoria neanche Cristian Sodini che tra l'altro è un Nugen quindi l'hanno portato su a 16 anni perché sono proprio in difficoltà come numero guardate anche De Angelis quanto è scarso qua veramente dovevamo puntare già a compare qualcuno infatti in questi primi giorni di questo novembre perché noi siamo arrivati già da qualche giorno a lucchese beh abbiamo già portato qualcuno ovvero Elias Luder giocatore preso a parametro 0 che per la categoria è sicuramente importante questo potrebbe ambire tranquillamente anche a una serie B per quanto riguarda invece i terzini forse l'unico veramente interessante è Visconti però è proprio un punto debole quello dei terzini compreso quello dell'attacco ecco perché questa squadra evidentemente fa così fatica in classifica quest'anno quindi visti tutti questi difensori centrali molti anche interessanti abbiamo messo a sondaggio alcuni moduli con difesa 3 votate votate che quello che vince quello facciamo eh palladino sarà palladino il prossimo modulo che andremo a fare quindi 3 4 2 1 anche per il modulo di palladino ci siamo avvarsi dell'articolo presente su assolalisti che ha analizzato però più il monza di inizio stagione ecco perché lì davanti più il fulcro pensando a petagna anche se poi ultimamente palladino ha utilizzato anche demi mota che è un po' diverso come giocatore un po' più mobile magari più attaccati che pressa ci poteva anche stare però ci siamo basati proprio sulla primo monza anche perché così proviamo un attacco che io normalmente in una challenge non proverei perché personalmente se devo giocare a una sola punta preferisco l'uomo d'aria eccetera avanti sì volendo anche l'attacca depressa ma il fulcro onestamente per massimizzare il gol sottoporta con due ciocci dietro onestamente non lo proverei però questo è il bello anche della carriera cioè andare anche a testare cose che magari normalmente non utilizzeremo quindi esterno completo sulla zona di sinistra mentre esterno invertito a destra perché questa scelta perché poi palladino li mette sulla corsia laterale ciuria chi ha piede sinistro anche se lo mette a destra quindi abbiamo utilizzato questa situazione per tentare una cosa un po' particolare qui tecnicamente ci sta più un regista piuttosto che un centrocampista difensivo onestamente pensando al gioco di palladino però noi non abbiamo un regista quindi avendo Mastali e Tumbarello abbiamo preferito diciamo la coppia centrocampista difensivo e secondo mediano secondo mediano fondamentale per poi collegare il centrocampo con la tre quarti altro dubbio è che al momento abbiamo ma che poi vedremo di risolvere durante il corso di questa stagione e il doppio COC con atteggiamento di supporto francamente ci siamo un po' leggera però ci siamo avvarsi appunto di quello che era scritto sull'articolo quindi giocatori che soprattutto supportano la manovra che vanno diciamo ad allargarsi lateralmente piuttosto che andare in profondità quindi sembrava giusto almeno inizialmente partire con questa soluzione quindi il concentrare il gioco sulla zona laterale l'utilizzo di palladino è quello degli spazi laterali e dei mezzi spazi passaggi corti ritmo molto alto ma palladino è anche diciamo un allenatore che ama dare libertà di movimento ai giocatori soprattutto quelli che stanno sulla tre quarti quindi abbiamo attivato anche il più creatività in transizione l'unica nota da sottolineare è il lancio lungo del portiere per il fulcro mentre per quanto riguarda la fase di non possesso abbastanza classica semplicemente un pressing proprio che non deve attivarsi sempre e comunque barretta sulla tre quarti faccio vedere brevemente le istruzioni sul singolo andando in velocità così magari chi mi chiede sempre ma come hai fatto la tattica quali sono le istruzioni così insomma vi do anche un minimo di input saranno fondamentali per questo gioco sicuramente i bracetti difensivi perché nel gioco di palladino portano avanti chiaramente la manovra che si costruisce dal basso anche se noi abbiamo paura che ci potessimo sbilanciare troppo quindi atteggiamento difensivo il che vuol dire che sì saranno in là per costruire ma poi al massimo diciamo faranno lo scarico e una volta arrivati a una certa altezza poi ritorneranno indietro per non rischiare troppo la giocata anche se abbiamo preferito mettere il cori più di rischi tanto per essere più utili alla fase iniziale di costruzione non sarà affatto facile operare sul mercato con la lucchese visto che il bilancio è in negativo di un milione e sette sicuramente la situazione può solo che peggiorare per quanto riguarda perlomeno i debiti mancano diciamo richieste alle banche per quanto riguarda questo primissimo episodio ora entreremo in campo faremo qualche operazione di mercato poi nell'episodio successivo invece andremo ad analizzare meglio la storia del club e della regione in cui si trova vi ricordo che in questa prima fase noi avendo come obiettivo l'utilizzo di un solo modulo andremo a fossilizzarci sull'aumento della familiarità soprattutto se sono inanamento azzurine e blu perlomeno essendo un club professionista possiamo allenarci tutti i giorni lucchese che essendo di noi sulla panchina non è che abbia fatto tante operazioni di mercato né l'entrata né l'uscita quest'anno l'odore abbiamo detto l'abbiamo preso noi quindi prima di noi il tecnico si era impegnato a prendere a chi questo è un prestito ma tenteremo di andarlo a convertire in acquisto definitivo visto che ha un contratto in scadenza nel 2024 l'altro è Leone che però chiaramente è troppo giovane e soprattutto molto scarso per la categoria purtroppo di riferimento io direi che possiamo buttarci la mischia cominciamo perché qua ci sarà un lavorone da fare per la familiarità abbiamo già parlato nella scorsa live su come abbiamo impostato il discorso di allenamento qui anche in serie C dove dobbiamo cercare entro 4-5 partite di alzarla tantissimo sta familiarità eh che sarà un punto debole finché non non facciamo subito capire cosa vogliamo dai nostri ragazzi questa situazione iniziale con lucchese penultima il Ravenne dodicesimo con 22 punti 11 dall'Ancona capolista prima azione della gara con Spinosa è il Ravenna quindi che avrà la prima chance assoluta di questa partita con Enrico che aggira completamente non ci credo che para che 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 paper ha fatto il portiere qua questa andrebbe rivista con la telecamera giusta però vediamola con dietro la porta ha tirato da casa sua guardate da dove ha tirato guardate da dove ha tirato Enrico mettiamo cucchietti Lucas a sto punto e Van der Sar come Van der Sar solo che Van der Sar almeno era appena arrivato eh si doveva ambientare lui invece non ha scusanti si è capito perché sono penultimi Uzzo direi proprio di sì Spinosa pala sul secondo palo gol ancora in raddoppio Ravenna su pali inattiva due pali inattive proprio devastanti per la lucchese ma se non sarebbe neanche pessimo per la divisione però sì non è un fenomeno lui ha praticamente controllo pala 7 e vabbè non è quello il problema presa ce l'avrebbe anche buona ma dico io dove hanno visto sto 13 in presa serve un miracolo qua io ve l'ho detto che questi ci hanno preso perché non sapevano proprio diciamo a chi affidare la squadra vi ricordo che ci hanno rifiutato team di serie D che stavano in alto in classifica ed erano senza allenatore figuriamoci perché ci ha chiamato la lucchese Visconti avanza devi cercare il cross Visconti lo spazio giusto ce l'ha potrebbe potrebbe innescare il cross per Romero che di testa è l'unica arma che ha visto che è lento e neanche azzecca il colpo di testa notte fonda è stato bello magari dici tu passare la D alla C però però probabilmente siamo venuti qui un po' come il presidente della della Longobarda Oronzo Canà cioè l'ha preso per per trovare un capro espiatoio penso che uguale anche noi siamo messi siamo stati messi su questa panchina per giustificare il presidente pure il palo di Romero Romero oggi zero tocca prendere un Aristoteles eh non sarebbe mica male non si è allontanata però la squadra da un possibile salvezza sono sempre quelli i punti 12 per noi e 20 per il trittico Olbia Sandonato vi spesero questa è l'unica nota positiva nel senso perdiamo noi ma perdono anche gli altri però perdiamo in casa ed è particolarmente drammatica quindi la situazione debutto senza lode per l'Oder mi aspettavo una situazione effettivamente differente ci piace spalluto punta non sembra male eh disponibile a zero freddezza 12 fino a sole 13 a tezzo un metro tra la tre noi sarebbe un fulcro forse non è tanto alto eh però stipendio 47k non te li posso da ma vedi che vuoi fa aumento di stipendio in caso di promozione 35 ma questo lo posso da tranquillamente alla promozione non la vedremo non ci sente ci interessa spalluto perché ci stiamo svenando con un po' di testa meglio Romero però lui poi recupera il controllo palle e anche fine di azione mentali nettamente a favore di spalluto e anche fisicamente corre un po' di più perde però in forza e massimo elevazione ma siamo straconvinti mi state facendo fare proprio una spesa folle l'unico discorso è se mettere uno di questi due in atteggiamento d'attacco perché ho visto che abbiamo creato troppo poco quindi tocca in qualche modo se non è almeno questo lo dobbiamo mettere in attacco il nostro Perugia giocherà con un 4 e 3 1 con una linea difensiva abbastanza bassa per poter contenere le anghie dell'avversario e poi lanciare lungo su 3 3 quartisti che poi possono mettere in difficoltà il nostro team quindi qua andiamo come al solito a bloccare i piedi deboli l'uperini è forte madonna mia però ma che è sto coso ma come fa questa è da serie B manco da serie C qua qua mi sa che atto che sconfitta qua sarà una debacle tipo 5 a 0 sogno un derby di Toscana Lucchese Fiorentina ma in Coppa Italia forse prima o poi ma in campionato non lo so se il presidente non arriva con i soldi o va a sbancare a Las Vegas dopo una notte da Leoni o sarà complicato mister Sandro ti ringrazio tantissimo un bacione ti ringrazio per il supporto del sesto mese direi che io firmerei per lo 0 a 0 a fine gara cioè mi tocca dire pure le bugie per tenere alto il morale mi sento come Arteta che sta gli sta sfuggendo il campionato e fa bravi ragazzi però eh continuate così che ce la facciamo guadagni pala lunghissima stavolta non ci facciamo fregare su punizione ma forse ho parlo troppo presto perché guadagni adesso il tiro Coletta stavolta si salva Coletta dopo la paperona che ha fatto nella scorsa partita i perugini ci provano di Carmine alla possibilità di portare avanti il Perugia attenzione ce l'hanno fregato con un lancio lunghissimo proviamo a perdere tempo non siamo in grado di giocare a questi livelli perdiamo tempo cerchiamo i calci piazzati tentiamo di bloccare questa partita Sgarbi non arriva sul pallone mancano 4 minuti di recupero la Lucchese sta sognando un primo punto che potrebbe arrivare attenzione ma ha giocato sempre solo il Perugia come mostra il grafico punto rubatissimo della Lucchese ma bene così e qua dobbiamo goderci anche i pareggi qua siamo messi talmente male che i pessimi pareggi sono importanti siamo sempre lì tocca sempre fare quei circa 9 punti per stare tranquilli mentre l'Ancona vola a 39 e il Perugia qui ha perso due punti importanti per la corsa diciamo allo scudetto da ufficio inchieste a NDC ma insomma mica abbiamo vinto avessimo vinto su un rigore inesistente darei anche ragione ma qua Hitzel non ha scommesso 4-3-3 per la Vispesaro una squadra che parte e basta e poi va ad allungarsi Gavazzi è lento però Gavazzi 35 anni non abbiamo paolo di lui Emanuele Ercolano invece Ercolano penso che sia anche un nome di un paese campano credo questo invece corre questo corre però tecnicamente non è fortissimo poi al centro campo vedo Valdifiori che era un po' un giocatore che volevamo provare a puntare anche noi poi alla fine dell'età ci ha fatto desistere secondo me questo qua va pressato perché potrebbe essere pericoloso per le geometrie poi del nostro avversario Kevin Cannavò quanti anni fa questo penso su FM 19 o 20 era un Masteva per chi partiva dal basso cresceva veramente tantissimo poi si è un po' perso penso anche se finalizzazione e freddezza restano importanti Pucciarelli invece fa la punta con 11 in finalizzazione ma se mi hanno sbagliato il tizio da mettere davanti non lo so a naso mi sembra che abbiano sbagliato a scegliere la punta ad attaccare però è la Lucchese in questo momento con la palla per Loder gol di Loder io l'avrei messo al centro pazzo sgravato l'Oder ha cercato il gol mamma mia se avesse sbagliato io l'avrei messo al centro su eti gol facile facile e invece il numero 15 della Lucchese è andata di far spallate col difendente per allontanarlo la Vispesaro la vedo in difficoltà ma scusate la Vispesaro è a metà classifica però in realtà più che metà diciamo che è uno di quelle che potrebbero lottare per non finire in zona retrocessione ti diriello per Mastalli ancora il difesore centrale che non ha il cori più rischi lui infatti torna sempre dietro avete visto si vede che insomma non è uno che deve assolutamente fare altro che scarichi Spalluto inizia così l'avventura di Spalluto della Lucchese subito in rete bagna la sua prima presenza in maniera goduriosa va a fare anche il balletto 2 a 0 della Lucchese a 23 minuti e tutta un'altra musica con l'Oder e anche l'altro bomber appena arrivato Spalluto due giocatori appena acquistati due giocatori che hanno fatto completamente cambiare il volto a una squadra che ormai era condannata a essere retrocessa io sono contentissimo di questo primo tempo a differenza della prima precedente abbiamo fatto praticamente meglio noi sta cominciando a spingere adesso la Vispesor che non crede ai suoi occhi non riesce a capacitarsi di stare sotto i due gol contro la Lucchese Sinclair non fare fallo non fare fallo Sinclair prova da girare completamente la linea difensiva prova a tirare alla Del Piero ma il tiro non gli riesce attenzione a Löder addirittura indietro guarda dove è sceso pur di andare a prendere palla sta lottando come se fosse un vichingo Löder mi piace si vede che è un giocatore che non è stato in qualche modo incupito da atmosfera negativa dei mesi precedenti per la Lucchese e dà sicuramente di più rispetto agli altri a chi mette al centro per Visconti no questo è un errore incredibile va bene che Visconti è un terzino ma lì andava tirato in diagonale sul polo opposto e qui la palla purtroppo è andata l'uomo sbagliato se no si poteva fare il 3-0 la Lucchese non si smuove però dalla penultima posizione perché ci sono tre punti dalla Carrarese ancora però è un bel segnale questo eh questo è un bel segnale sconfitta pareggio vittoria abbiamo fatto il semaforo Filippo Florio 27 anni peccato che non cresce ma questo non è malaccio come giocatore secondo me poi abbiamo Simone Sini ma questo non mi preoccupo più di tanto sono moderatamente ottimista spero di non sbagliarmi primo rigore in assoluto da questi 11 metri per andare a spiazzare completamente il portiere golla Lucchese passa in vantaggio contro l'Alessandria questa è una sfida assolutamente di scontro diretto tra squadre che devono evitare possibilmente la retrocessione Alessandria subito sotto al settimo minuto ottavo quasi e si è rotto spalluto no ma aveva appena cominciato l'avventura ma com'è possibile mamma mia che brutta batosta questa qua eh speriamo non sia nulla di grave abbiamo già perso il bomber sapete che potrebbe essere devastante sta sti infortunio cioè non vorrei dover ricorrere sul mercato un'altra volta ma poi che soldi di chi speriamo che la squadra non ne risenta eh qui attenzione a Gazzulla intervento di Gazzulla e porta al pareggio l'Alessandria brutto brutto pareggio questo male male questo pareggio stoppa aggancia il pallone lancia Romero che semmai anche in fuorigioco tra l'altro Palombi recupera il pallone la gira ancora a Galeandro proprio da quella zona abbiamo subito il gol no pure il rigore dai pure il rigore notte fonda oggi notte fonda in questa partita che peccato caspita esce fuori il bomber tragedia Palombi dal dischetto potrebbe portare l'Alessandria in vantaggio rimontona questo è il peggior incubo che potremmo affrontare incredibile qua ci vuole veramente un miracolo Aki prova a mettersi nella zona giusta per fare il cross Romero ma possibile questo una cosa da fare manco la fa bene è la seconda partita che prova a colpire di testa e sbaglia completamente corner Rizzo palla al centro Romero cioè mi chiedo perché Romero con il gioco aereo positivo non riesce a trasformare mai un cross in gol fino a prima ero fiducioso poi sta sconfitta clamorosa perché poi guardate bene abbiamo giocato noi abbiamo giocato solamente noi questi hanno avuto un'occasione reale e hanno fatto gol e poi rigore è incredibile così da che tu avevi l'XG1 il punto 50 contro uno che era il rigore esatto gatto ma ti ripeto non hanno fatto nulla però sai alle volte quando hai quelle occasioni se le trasformi cambia l'autopartita ed è quello che hanno fatto hanno fatto benissimo io penso che non dovevamo andare ancora in Serie C però uno ti dà la panchiera di Serie C tu che fai dici no ci abbiamo ci abbiamo provato lo stesso ma temo che sia stato un passo più avanti più lungo del previsto se riusciamo veramente in queste imprese a salvarli penso che ci devono fare una statua che veramente sono messi sono messi male allora gli undici titolari sono questi spalluto come ben sappiamo non possiamo utilizzarlo quindi ancora Romero però per la prossima forse ce la fa eh anzi innanzitutto vado a fare vado a fare così un bel focus su l'abitazione generale per entrambi visto che hanno linfa arancio e non rosso eh però questi sono forti Petrella non è niente male di massimo non mi preoccupa diciamo che qualche giocatore interessante purtroppo ce l'hanno l'Ancona se non vado errato è la prima ora è seconda ora prima la spalla è ancora una seconda quindi altra sfida difficilissima ma il bello è che noi abbiamo sbagliato quella che non andiamo a sbagliare abbiamo sbagliato quella che non avremmo dovuto sbagliare è la prima però azione indovina di chi è della lucchese con la maglia dorata si va al corner poco fortunati qui perché becchiamo la parte alta della traversa qui l'obiettivo sarebbe un giorno allenare che ti devo dire il mociore il marsiglia no una scuola magari di categoria superiore ma per il momento godiamoci romero che finalmente capisce come si colpisce di testa su corner non ci credo finalmente il quarto colpo di testa che va a fare è finalmente la zecca l'unica arma buona che ha il colpo di testa è l'oliverbiro dei poveri questo romero finalmente riesce a fare il gol che porta in vantaggio clamorosamente a lucchese ma sappiamo che dobbiamo stare con i piedi per terra già con l'essandria siamo andati in vantaggio e poi ce ne siamo usciti con le ossa rotte non stare attenti qui al cambio poi di mentalità che forse ha già fatto la lancona perché qui stanno già attaccando uno due tre quattro giocatori addirittura sulla linea della nostra difesa palucci per gatto spagnoli fermato con l'irruenza da romero romero si vede che in questo momento ha grande fiducia in se stesso però arriva poi l'errore difensivo spagnoli parata funambolica di coletta qui coletta ci ha salvato sto pensando in mettere lo step più basso per fare quel passo indietro prima che l'avversario possa diciamo fregarci in contro perché vedo che spesso e volentieri nonostante i tre difensori siamo un po' fessacchiotti sulla sui sulle palle diciamo lunghe io direi magari provare uno stare più bassi punizione che potrebbe essere pericolosa qui eh attenzione anzi va in porta va direttamente in porta mamma mia che coraggio la seconda in classifica oggi evidentemente deve ancora restarsi dal torpore del sogno sono in un incubo perentorio perenne in questo momento Luder per Visconti mettila al centro ancora per Romero Romero 2 a 0 se non viene annullato pazzesco Romero mamma mia cioè sconfitta con Alessandria immediata e 2 a 0 sui secondi in classifica allucinante è un'ammazza grandi forse la lucchese Rizzo Pina l'allarga per Achilles ten invertito prova a entrare dentro la rigore e poi decide per il Clossa rigore per la lucchese mamma mia in 43 minuti cosa non è accaduto in questa partita intanto Rizzo Pina da dischetto ne ha già segnato uno e segna anche il secondo però Marfell è stato bravo preventivamente si era buttato già sapeva che avrebbe tirato lì in pratica ma non è bastato perché Rizzo Pina porta la lucchese su 3 a 0 ora magari faccio la macumba più grossa del mondo ma questa l'abbiamo vinta forse attenzione forse l'ho detto troppo presto probabilmente ora che i tifosi hanno visto il loro allenatore dire che l'hanno già vinta probabilmente gli tireranno addosso le lattine vuote però secondo me non siamo partiti male in realtà ma Stanley potrebbe anche campi però troppo presto andiamo a dirgli semplicemente di stare attento poi magari tra 15 minuti mettiamo le riserve va tra 15 minuti si mettono le riserve Petrella sull'area piccola si salva momentaneamente il nostro lucchese ma attenzione Paolucci il gol lo fa il gol lo fa e qua chiaramente tuonano le parole del mister della lucchese di pochi minuti fa tuonano mi sai che me la son tirata eh ho questa sensazione di essermela tirata vi sconti ancora per benassai che sbavarda lì che erroraccio andrà a finire come Milan Liverpool è scarsissimo De Angelis eh tocca fa sto cambio incrociamo le dita perché mancano 4 minuti 3 minuti 2 minuti 1 minuto lucchese batte a sorpresa l'Ancona secondo in classifica la lucchese ritorna su eh perché cosa ha fatto il nostro avversario l'Alessandria ha pareggiato col Sandro da Vernelle quindi ritorniamo penultimi e mo abbiamo 3 punti dal Sandro da Vernelle quindi 4 dalla possibile uscita dalla situazione brutta però è assurdo scuola pazza folle completamente senza senso questa lucchese batte l'Ancona e perde con l'Alessandria incredibile incredibile per questo tempo l'abbiamo perso vabbè 1-2 giorni ci sta non è un problema mamma mia che prestazione pazzesca 3-0 nei primi 45 minuti tra l'altro abbiamo fatto 3 gol nei primi 45 minuti mostruoso lucchese fermana quindi i giocatori sono tutti recuperati vediamo se anche Spalluto è Spalluto 94% ce lo possiamo anche portare non lo metterei già in campo non vorrei rischiarlo però teoricamente potrebbe già praticamente giocare 45 minuti ma non voglio ripeto rischiarmelo avversario allora la fermana 4-3 ultime 5 gare 4 vittorie un pareggio è una sconfitta quindi purtroppo sono in forma Alessandro vedo molti terzini in questa categoria che sono abili nella corsa ma non sono tecnici avete visto? spesso e volentieri troviamo giocatori di questo tipo se mai ci sarà un giocatore di talento a centrocampo questo va bloccato qua un bel pressing Orlando ce l'ha visto offensivo non sembra pericoloso partita di Lucchese contro Fermana un Lucchese che viene da una vittoria croccantosa ma una Lucchese che non ha mai fatto due risultati diciamo di fila come vittorie quindi diciamo che la storia la statistica ci dice che siamo più di fronte a un possibile pareggio o sconfitta per il team di Carlos Franza che scende in campo con il solito 3-4-2-1 mentre la Fermana scende in campo con Stefano Protti in ma cos'è parende di Igor Protti forse scende in campo con il 4-3 che abbiamo già visionato abbiamo già messo le esposizioni sull'avversario Fermana metà classifica sogna eventualmente di entrare nei playoff mentre Lucchese sogna di uscire fuori dall'incubo per provare a salvarsi l'attacco della Lucchese porta Visconti a mettere la palla per Romero anticipato Rizzopina ancora dalle retrovie mette un cross Rizzopina basso Perachi la palla bassa per Romero è troppo lunga arriva Visconti e fa il gol di Visconti io pensavo che la passasse a Romero forse impreciso forse voluto ma sta di fatto c'è già la punizione per la Fermana che vorrebbe andare al pareggio al sesto minuto partita viva da ambo le parti la punizione è alta fortunatamente Fermana con Orlando arriva il pareggio qui il portiere esce male qui purtroppo colletta esce male lui doveva stare in porta fosse rimasto in porta ha fatto quel passo in più non puoi prendere un gol lì secondo me non puoi prendere un gol così noi possiamo fare ricerca ma poi vanno sempre osservati perché ci sono imposti che avremmo lavorato solamente su quelli osservati quindi è per questo che o facciamo ricerca o proviniamo ma non possiamo comprare giocatori che già sappiamo possono essere buoni Manu Bonsalve Cherubini palla sulla secondo palla ancora gol su punizione non ci credo ma come si fa a prendere gol sempre così signori mandiamo via sto portiere per favore ma non è possibile due gol allo stesso modo coletta da buttare via Cherubini corner per la Fermana e qui un altro errore del portiere ma stavolta siamo stati fortunati perché il difensore l'ha allontanata finché poi Orlando non tira ma ogni tira è gol oggi è incredibile scandaloso il portiere tutti i gol uguali poi il teo da lontanissimo il secondo che pigliamo da lontano vi ricordate che anche la prima partita fatta ha preso un gol da lontanissimo stile Van der Sar contro Zidorf gol di Nicolo Romero che purtroppo però non porta a grandi festeggiamenti dalla panchina perché sappiamo benissimo che siamo sotto ancora di un gol e con questo portiere purtroppo abbiamo una paura incredibile a ogni tiro che fanno gli avversari comunque qui va segnalato il passaggio di Luder e il diagonale di Romero comunque si vede che è grosso rispetto agli altri sempre il doppio proviamo a dare qualche minuto a spalluto in questi ultimi frangenti di Lucchese e Fermana ma la partita sembra volgere sul 3-2 da Fermana un attesione al corner corner di Romero traversa no non ci posso credere era arrivata l'occasione del pareggio Romero di testa purtroppo non riesce a ficcare e siamo ancora sotto di un gol mancano un minuto e mezzo ma siamo già nel recupero Merletti di testa non ci arriva ma la palla è ancora nostra se ci crediamo non ci crediamo qui purtroppo passo indietro dalla Lucchese ma il passo indietro è del portiere non tanto nel gioco perché poi alla fine non mi sembra che ci abbiano in qualche modo sul classato però al portiere purtroppo fa danni e ho visto una cosa bruttissima in classifica Dolby sta a 25 dai meno 4 ora sono diventati 6 i punti da fare quindi in situazione che si complica un'altra volta si figo se questo viene da noi sì come per accetto ci potrebbe anche stare solo il 50% eh sono tutti furbi in questa vita è incredibile sono tutti furbi se lo vendiamo a 400k incassiamo 200 poi Cristian Macchioni troppo scarso direi anche questo salta Lucas Lino portiere troppo scarso De Frella integrità fisica a 12 questo però dovremmo trasformarlo in coffa chiaramente perché non può fare il fulcro ma arriviamo al punto dolente quanto mi costa De Frella senti più di questo non so che fa vedi che vuoi fa che si fa da prendere subito accetta ma che sei pazzo devi per forza dargli questi soldi così poco dagliene ancora di più almeno uno di tutti questi provini l'abbiamo azzeccato non era scontato secondo me eh